la bellezza è noi l'abbiamo paragonata nel piccolo testo che abbiamo scritto esplicativo a un magnete la bellezza è un magnete rispetto al quale noi siamo un po come la limatura di ferro siamo obbligati in qualche in qualche misura ad aderire ad accogliere questa provocazione che la bellezza ci fa perché perché la bellezza per noi è una vigilia una vigilia di promesse un approdo di beatitudine tante cose la bellezza ed è ed è un magnetismo quello che esercita su di noi è un magnetismo un languore possiamo chiamarlo un formicolio che sentiamo sia negli occhi che sulla punta delle dita è qualcosa appunto cui non possiamo che abbandonarci ma ci sono diverse modalità nelle quali possiamo possiamo lasciarci andare può essere ragione di virtù la bellezza e può essere ragione di storture perché inseguire la bellezza può indurci o a muoverci nella luce della bellezza per essere anche noi investiti da questa luce per diventarne una sorta di riflesso specchiante oppure può indurci a fare la scelta opposta a muoverci invece al buio nell'oscurità per cercare di ghermirla la bellezza metterla da parte tenerla per noi sottrarla agli altri e sporcarla sporcarla il più delle volte quindi noi possiamo scegliere davanti alla bellezza e quello che noi vogliamo analizzare nel corso di questo ciclo sono le diverse modalità in effetti con le quali noi possiamo rapportarci con virtù con armonia oppure con brutalità con ferocia e con un egoismo di fondo che fa sì che la bellezza diventi mia proprietà ma non condivisibile oggi con il professor cardini noi appunto iniziamo il percorso proseguiremo col professor maurizio ferraris professor giuliano boccali e con la professoressa adriana valerio nel corso del mese di aprile e nel corso del mese di maggio e oggi col professore partiamo da un libro che lui ha recentemente pubblicato per il mulino le dimore di dio in questo ciclo la bellezza la tratteremo sotto due aspetti c'è la bellezza come apparenza quindi la bellezza dei corpi la bellezza delle membra la bellezza della carne e poi c'è la bellezza come apparizione quella è la bellezza di dio e l'apparizione divina col professore partiamo da lì partiamo partiamo proprio dalla bellezza divina e da dove la bellezza divina risiede dove noi siamo tentati di di andarla a cercare perché c'è uno splendore di dio sant'agostino diceva rivolgendosi a dio bellezza tanto antica e tanto nuova e aggiungeva tardi ti ho amato perché l'aveva l'aveva amata tardi perché non la trovava perché la cercava dice lui nel posto sbagliato diceva io tu eri con me bellezza ma io non ero con te tu eri dentro di me e io ti cercavo fuori qui agostino fa riferimento ai suoi anni di giovinezza in cui forse confondeva un po apparenza e apparizione insomma cercava forse la bellezza dei corpi fuori di sé più che non la bellezza divina ma al netto di questo la riflessione di agostino interessante dove bisogna cercare la bellezza di dio dentro di noi oppure è legittimo anche andare a setacciare ciò che c'è intorno a noi andarla a cercare fuori andare a cercare dei luoghi degli spazi delle evenienze nelle quali sentiamo una vibrazione particolare nelle quali sentiamo risuonare maggiormente una presenza una presenza che ci sta a cuore è una domanda difficile anche perché presupporrebbe un dio stanziale in qualche modo invece dio il dio della bibbia è un dio dinamico è un dio è un dio che si muove un dio della via fin nell'eden ad amoedeva sentono i passi di dio che si muove alla brezza del mattino no da subito ci viene mostrato come un dio dell'andare un dio del divenire poi il suo santuario un'arca mobile e quando nel vangelo i futuri apostoli chiedono a gesù dove abiti gesù non gli risponde sciorinando un indirizzo ma gli dice venite e vedrete risponde al loro interrogativo con un imperativo e con una e con una garanzia venite e vedrete 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 dove abito allora il punto da trattare col professore è se questo è un dio della via se se il palesarsi di dio presuppone la nostra presenza se dio è onnipresente allora è lecito cercarlo in qualche posto è lecito cercarlo in un luogo perché sicuramente la geografia della grazia su google map non la troviamo e allora io le chiedo professore intanto beh lei 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 lo definisce nel libro l'introvabile presente che è un bel paradosso è un bell'intrigante paradosso quindi le chiedo questo introvabile presente intanto dove abita quali strumenti noi abbiamo per riuscire a risalire all'indirizzo di questa dimora e poi forse è la domanda principale la domanda iniziale anche una volta che abbiamo capito qual è questo indirizzo poi a quale nome segreto dobbiamo citofonare perché non è neanche così ovvio trovare trovare dio indicato in precomprecisione non è detto e poi può succedere di essere abbastanza sicuri con qualche margine probabilità di averlo trovato e invece non è vero non si è trovato nulla si è trovato qualcosa di diverso anche di molto diverso anche di dannatamente diverso in tutti i sensi possibili ed avverbio così come si può succedere di cercare di non trovare e alla fine di arrendersi quesivi e te non inveni e in generale almeno i filosofi che hanno trattato l'argomento ora sto pensando a spinosa ma non sarà lui e beh insomma quando quando hanno gettato la spugna l'hanno gettata perché in fondo in realtà avevano trovato qualche cosa il problema è che non sempre ci si rende conto di aver trovato quello che si cerca e beh si può partire da questo San Pio X San Pio X ha un problema l'aveva sempre fino da da quando era un giovane prete un problema di catechesi era perseguitato dalla catechesi e alla fine ha scritto un'opera un'operetta diciamo sia un capolavoro il catechismo di San Pio X è un pozzo senza fondo è una è una risposta continua a domande che magari in gran parte non si riescono nemmeno a formulare purtroppo viene usato queste sono le regole del gioco in un modo che a chi lo usa o a chi ne è vittima e chi ne è diciamo l'oggetto può sembrare banale anzi banalizzante addirittura è in fondo un catechismo deve essere banalizzante deve ridurre problemi ineffabili a misura d'uomo uomo nel senso dimension in tedesco quindi a misura di essere umano adesso bisognerebbe dire a misura di donna e di uomo sembra che se questo faccia perde tempo a misura di essere umano la risposta è nota insomma catechismo in fondo è un trattatello socratico e che usa anche un sistema maieutico dichiarato quindi le domande sono opportunamente poste in maniera che già la sequenza delle domande dia la risposta di un catechismo come gran parte dei nostri nostre questioni anche delle opere letterarie in realtà comincia a rovescio si comincia a porre la domanda quando abbiamo già la risposta e questo è pericoloso fra l'altro però sono anche le regole del gioco quindi alla domanda la prima domanda è chi è dio la risposta è dio è l'essere perfettissimo creatore e signore del cielo e della terra beh siamo in un ambito proprio classicamente scolastico nel senso quindi aristotelico e l'ambito mistico del termine c'è un dio c'è una risposta creazionista dio evidentemente il dio è il creatore il signore il cielo e della terra risposta cielo e terra intendendosi come l'ambiente oggi forse si direbbe dell'ambiente dello spazio dell'ambiente del cosmo cielo e terra è ancora una risposta arcaica in tutto questo è già disegnata una geografia sacra una una geostoria sacra forse una geopolitica sacra creatore e signore questo concetto della signoria del mondo legata alla creazione quindi siamo in un ambiente che evidentemente almeno in apparenza sembra escludere chi è i primi del novecento non faceva certo impressione a nessuno a noi forse ce ne fa un po' di più sembra escludere ogni risposta divino che non sia una risposta di tipo creazionistico non solo creazionistico ma anche di tipo dominante il signore dio come dominus dominansium è una risposta che va benissimo per le religioni abramitiche e paradossalmente forse va meno bene per il cristianesimo che non per l'ebraismo per l'islam perché quest'idea della creazione della signoria è molto tipicamente ebraica e musulmana le religioni abramitiche molto spesso si dice sono un triangolo è vero hanno tre apici che sono appunto in ordine cronologico di apparizione nella storia dell'umanità l'ebraismo il cristianesimo e l'islam però bisogna tenere presente che non sono esattamente non sono un triangolo equilatero contrariamente a quello che noi siamo abituati dalla anche dalla iconografia da una certa iconografia molto viva per esempio nel mondo settecentesco quindi nel mondo anche dell'esoterismo settecentesco che ha aspetti cattolici che costeggiano quelli invece della filosofia ateista il famoso triangolo di dio triangolo nel quale è iscritto il tetragramma di solito Yahweh e tetragramma in lettere ebraiche e noi lo presentiamo sempre a Torino anche a Firenze ma a Torino è molto frequente il triangolo divino sugli altari sui fastici dell'altare o dell'arco trionfale che introduce all'altare c'è un elemento anche di tipo massonico eccetera lo sappiamo e questo triangolo è un triangolo equilatero ecco però il triangolo delle religioni abramitiche non è affatto equilatero e perché ci sono due delle treffe delle tre religioni non dico fedi eh perché la fede è soltanto quella è soltanto quella cristiana in fondo è la fede nel rapporto che ci collega con il dio incarnato è quello che intendevano i padri di Nicea quando hanno quando hanno scritto il simbolo niceno quella è la fede fondata sulla testimonianza non a caso si testimonia la nascita la morte sotto un certo procuratore romano e poi la la resurrezione via discorrendo le altre non sono fedi sono semmai leggi e infatti gli antropologi parlano o gli storici e le regioni parlano di religioni di fede una quella cristiana quella cristiana e religioni di legge quella ebraica e quella musulmana ecco le due regioni di legge sono molto simili fra loro eh noi siamo forse un po' annebbiati in questi giorni eh anche dalla dall'essere stati travolti dalla dall'ondata mediatica che è per definizione un'ondata di definizioni e di di discussioni eh fondate sulla superficialità e sull'ambiguità e anche sulla ferocia qualche volta per cui certe cose ce le dimentichiamo ma in realtà può sembrare paradossale molti lo credono qualcuno obietta quando c'è sempre qualcuno obietta quando si sottolinea la somiglianza fra l'ebraismo e e l'islam e come il cristianesimo nonostante ci siano delle differenze anche di altro genere come il cristianesimo sia distante dal dall'ebraismo e dall'islam pur essendo strettamente collegato il problema della dell'unità divina che viene in qualche modo dislocato scomposto dogma della trinità è vero ci sono i cristiani antitrinitari ma sono una minoranza il problema dell'incarnazione del dio incarnato che non è il dio che prende le vesti umane per tanti motivi per cui in tutte le mitologie del mondo c'è sempre il racconto di un dio di una dea o di più di dei e più dei che prendono vesti umane apparenze umane la carne umana ma quella non è l'incarnazione evidentemente l'incarnazione è un'altra cosa il dio è vero il cristo è vero dio è vero uomo che vuol dire che nella sostanza divina c'è c'è una spina umana c'è una componente umana e questo naturalmente veramente incomprensibile e inaccettabile per gli ebrei e per i musulmani teologi ebrei musulmani fanno sempre dei prodigi di cortesia quando parlano quando discutano con i cristiani di questi termini perché sono termini per loro assolutamente aberranti e inaccettabili non a caso loro sostengono che il cristianesimo a differenza di loro ha molto ereditato dei vari sistemi pagani il dio è il cielo in terra e in ogni luogo secondo il catechismo di san pio decimo è l'essere perfettissimo e qui c'è tutta una problematica che chi si ricorda ancora di qualche certe cose studiate al liceo all'università il problema proprio delle il problema degli degli assoluti ad esempio l'essere perfettissimo tra la polemica fra i nominalisti e sostanzialisti sul concetto di perfezione il concetto di perfezione è per sua natura un'unità di misura non si può non immaginare la perfezione ma nello stesso tempo com'è possibile immaginare la perfezione partendo da strumenti imperfetti roscellino tutta quella roba lì del dodicesimo secolo su cui i medievisti almeno si sono molto divertiti il punto è che già questo concetto della perfezione all'assoluto perfettissimo ci mette in guardia in ebraico come sapete il concetto del divino si rende con un monosillabo el in arabo e al molto simile il plurale di el è Elohim nello stesso tempo questo assoluto il dio per eccellenza il vero dio il grande dio il dio il dio totale eccetera è espresso con un accorgimento di tipo grammaticale che chiama in causa il plurale perché Elohim è il dio assoluto rispetto agli agli altri Elohim gli dei delle montagne della montagna come dice o dei culmini delle montagne come dice il Genesi questo concetto si si esprime al plurale nello stesso tempo questo plurale è un superlativo naturalmente tutto questo a livello grammaticale ci apre un abisso davanti alla davanti alla punta dei nostri piedi ci sentiamo sull'orlo dell'abisso quando Saul visita la pitonissa la 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 signora dei morti colei che è può evocare i morti come la chiamiamo strega maga profetessa lei dice vedo un Elohim che sale dalla terra è lo spirito di Samuele questo è quello che si dice a Saul e che Saul crede ma per la verità pochi brani della Bibbia sono complessi e tormentati come questo resta il fatto che il concetto ebraico di Dio che viene editato in tutto dall'Islam Allah e la 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 trasposizione araba della parola Elohim figura una divinità fondata sulla forza forza come potenza potenza generatrice potenza creatrice e creatrice dal nulla potenza generatrice potenza dinamica il Dio che passeggia che passeggia nel paradiso però il suo passeggiare è un passeggiare talmente terribile che Adamo e Deva l'hanno sentito tante altre volte passeggiare in paradiso ed era un passeggiare amichevole quando hanno conosciuto il bene e il male perché hanno mangiato il frutto loro si accorgono che questo passeggiare di Dio è qualcosa di tremendo e ne hanno paura e hanno paura e scoprono alla luce di questo di questo passeggiare di Dio la miseria della loro nudità si vergognano si vanno a coprire cosa che non avevano mai fatto fino ad allora siccome il cristianesimo ha fatto una cosa che l'ebraismo non aveva fatto e che l'Islam non avrebbe fatto nonostante naturalmente nell'ebraismo e nell'Islam la filosofia greca la filosofia ellenistica soprattutto è stata molto praticata però non c'è questo rapporto nell'ebraismo nell'Islam questo rapporto profondo questa sorta di cordone umbellicale con le lingue diverse da quelle di ceppo semisico mentre invece il cristianesimo il cristianesimo è una religione che si trova perfettamente a suo agio all'interno dell'impero romano il che vuol dire che è una religione che parla greco perché il basic english dell'impero romano è il greco e il greco come sapete è una lingua che continuiamo a definire indoeuropea anche se oggi molti linguisti manifestano in sofferenza davanti a queste vecchie tripartizioni di carattere settecentesco ecco nelle lingue indoeuropee e quindi nelle varie declinazioni del del ceppo irano irano-indiano per esempio nel sanscrito il paravico eccetera il concetto di Dio è qui questo si riflette che come sapete le lingue indoeuropee a un certo punto si biforcano in questi due sistemi onnicomprensivi che però sono binari e che noi esprimiamo usando i due diversi termini che in latino e beh anche nell'indi indi e anche in russo fra l'altro indicano la parola cento quindi i ceppi indoeuropei del centum quindi c'è il latino ci sono le lingue germaniche eccetera e i ceppi indoeuropei del satem dove ci sono le lingue slave le lingue celtiche le lingue baltiche e via discorrendo e sono due modi diversi di praticare gli idiomi indoeuropei e lì però noi ci troviamo sempre davanti a una costante dell'immaginazione di Dio che forse ancora più della bellezza ancora più della forza El Elohim Allah richiama per noi l'ideale di bellezza perché è un termine è una serie di termini è un campo semantico che indica la luce la luminosità di Aus Deus Theos ecco questa dicotomia tra l'immagine di Dio che rimanda alla potenza e l'immagine di Dio che rimanda alla bellezza è forse qualche cosa di una specie di chiave o di guida che ci può che ci può avviare a cercare di districare questo problema fondamentale c'è un passo molto bello di che parla il profeta Elia nel Genesi adesso mi ricordo i versetti quindi non ve li dico perché sbaglierei ma è un episodio molto noto Elia sta nella sua grotta e sa che deve passare il Signore e ha paura a un certo punto sente il rumore di un uragano fortissimo vento pioggia ma Dio non è nell'uragano che è molto strano perché il Dio degli ebrei e anche dei musulmani e anche degli cristiani cavalca spesso gli uragani e in quel caso non c'è poi sente il rumore di un'eruzione di una fuoriuscita del fuoco sotterraneo ma Dio non è nemmeno lì non è nemmeno nel fuoco e poi sente una brezza leggera e a questa brezza leggera Elia si copre la testa esce e Dio gli domanda amichevolmente ah ci sei Elia sei lì e il resto poi del colloquio si svolge in una pacatezza amichevole questa è la diceva Albert Schweitzer l'immagine più terribile di Dio di tutta la tradizione biblica che pure ne ha di fremende questa brezza leggera davanti alla quale si sente che cosa si sente si sente quello che Walterotto ha definito il sacro come il ganz anders il totalmente diverso da noi qualche cosa che ci riguarda profondamente qualche cosa che senza il quale noi non non viviamo non comprendiamo non sentiamo siamo afasici sordi muti eccetera e che nonostante tutto è lontanissimo dalla nostra natura e di per sé stesso questo è un problema intorno al quale Freud e Jung hanno lavorato molto al momento nello stesso tempo non possiamo dire che questa forza sia una forza buona non nel senso umano del termine il il sacro 18 è un po' come la corrente elettrica di per sé non è né buona né cattiva dipende dagli usi che ne facciamo dipende dagli strumenti che abbiamo per incanalarla dipende dalle circostanze nelle quali ce la troviamo davanti può essere utilissima e può essere dannosa fino alla morte di per sé ha una bontà intrinseca nel senso di una forza positiva intrinseca che però non è quella dell'uomo non è concepibile a livello umano la bontà divina non è la bontà degli uomini certo anche in questo i cristiani sono più più facilitati in un certo senso a capirla e più problematizzati per un altro noi quando preghiamo quelli di noi sono credenti naturalmente ma quelli che non sono credenti la sostanza e la preghiera dovrebbero conoscerla comunque quando preghiamo noi tendiamo a trattare amichevolmente il Dio il timordomini durante la preghiera cristiana tende a svanire cosa che non svanisce mai nella preghiera musulmana e nella preghiera ebraica il mio amico musulmano mi rimprovera sempre dicendo che noi a voi cristiani non sapete fare la preghiera di ringraziamento non sapete fare la preghiera di lode quando pregate tendete sempre la mano chiedete sempre qualche cosa signore di Dio fammi questo fammi quest'altro fammi vivere a lungo fammi vivere sano fammi trovare dei soldi fammi fammi superare un esame qualunque cosa si prega per ottenere qualche cosa e d'altra parte questa è una funzione di qualcosa che gli ebrei capiscono davanti alla quale sono abbastanza indulgenti i musulmani la capiscono anche loro perché insomma l'islam senza la filosofia ellenistica andrebbe poco lontano però nello stesso tempo sono un po' più severi nel senso che Dio è comunque clemente e misericordioso però la sua clemenza non è la clemenza degli uomini e la sua misericordia non è la misericordia di questo mondo e allora come si fa a trovare la bellezza in questa cosa che è così lontana da noi e nello stesso tempo che noi siamo abituati a rintracciare in termini profondamente umani perché il Dio dei cristiani è un Dio bello anche umanamente parlando la cristologia è una branchia della teologia cristiana a volte sembra quasi umoristica se vista dall'esterno perché i cristologi danno un'immagine del Cristo e ne danno un'immagine che potremmo definire Apollinea o Michelangelesca forse anche Dionisiaca per certi versi forse aveva ragione Nietzsche ma certamente un'immagine di grande bellezza e tutto questo appunto appartiene alla difficoltà di concepire un Dio in termini metafisici che gli ebrei musulmani rimproverano in realtà ai cristiani ma la riduzio divini ad umanum è qualcosa che vista al di fuori della logica cristiana è effettivamente pare effettivamente riduttiva e intendiamoci può anche darsi che lo sia so benissimo che questo è un discorso che fra tutti i difetti che ha il difetto fondamentale è quello di essere soggettivo e più tende a cercare di essere di superare la soggettività e più ci ricasca nella soggettività d'altra parte sono le regole del gioco professore le lancio un'altra suggestione lei ha parlato di preghiera allora io mi chiedo quando noi allestiamo le dimore di Dio quando costruiamo un luogo nel quale supponiamo che Dio pulsi in una maniera diversa effettivamente noi stiamo costruendo un luogo per canalizzare le nostre preghiere o perché Dio sia lì perché perché nel momento in cui noi affermiamo una una trascendenza incarnata allora il nostro Dio può realisticamente stare da qualche parte sì infatti si torna lì a Elia poi lo lasciamo da parte io ho un po' l'affrezzazione Elia lo riconosco la mia dimensione è molto Eliaca la mia dimensione religiosa spirituale ma in Elia c'è già questo problema Dio non è nell'uragano Dio non è nell'eruzione e l'uragano e l'eruzione sono di more di Dio e la risposta è sì e gli antropologi religiosi davanti a questo passo di Elia vanno in estasi perché gli antropologi religiosi facendo un discorso di comparazione religiosa si trovano di continuo davanti a quei sistemi che la teologia cristiana richiama un po' riduttivamente un po' semplicisticamente le religioni naturali contrapposte naturalmente non alle religioni innaturali ma alle religioni rivelate le religioni naturali sono quelli che quando vogliamo usare un po' il linguaggio da caffè dello sport diciamo le religioni pagane i vari paganesimi quando diciamo paganesimo in generale non alludiamo né al cristianesimo né all'ebraismo e nemmeno all'islam anche se nella tradizione letteraria poi ma in quella letteraria i musulmani sono definiti spesso pagani nell'epica per esempio ma sappiamo che non è non è così ora il problema della dimora è un problema importante Dio non è lì Dio dice San Pio X nel suo catechismo è in cielo in terra e in ogni luogo il che dà sempre molto da pensare da preoccuparsi i bambini si preoccupano per esempio o i bambini di un tempo si preoccupavano ora i bambini di oggi forse sono meno assillati dal catechismo di San Pio X ma i bambini di 75 anni fa il bambino che ero io beh insomma tutte le volte per esempio facevamo qualcosa qualcosa di non bello di non corretto di non decoroso correttissimo una persona che va in bagno non fa niente di male non fa niente di scorretto però insomma l'idea che Dio sia anche lì e che lo guardi gli crea un tantino di disagio è un modo puerile di vedere le cose eh sì ma è anche un modo di abituarsi a riconoscere l'onnipresenza divina e quindi la necessità fra l'altro e didatticamente questo è qualche cosa ad una forza straordinaria di essere sempre corretti di essere sempre propri di essere proprio nel senso francese del termine di essere sempre dignitosi perché fra l'altro sei sempre e comunque alla presenza di Dio però c'è un fatto di quantità e di più che di quantità di densità Dante lo dice molto bene la gloria di colui che tutto muove nell'universo penetra è Aristotele e quindi San Tommaso nell'universo penetra e discende in una parte più e meno altrove la natura la materia è ha una qualità di densità diversa e la la divinità compartecipa di questa caratteristica Dio penetra tutte le cose ma le penetra con una densità maggiore o minore e quando Dante si trova nel cielo e la luna per esempio questo discorso della densità legata proprio anche allo spirito anche agli spiriti che lui incontra diventa molto importante e allora quando si parla di dimore di Dio bisogna scartare l'idea che Dio non ci sia in certe perlomeno appunto il Dio di Abramo di Sacco di Giacobbe di Gesù e di Muhammad c'è sempre dappertutto ma non è sempre presente dappertutto con la stessa chiamiamola così perentorietà e nel Tempio di Gerusalemme quando gli ebrei riescono a liberarsi e non ci riusciranno mai del tutto tra l'altro i profeti non erano affatto d'accordo era un'idea era un'idea della classe dirigente regale diciamo dei re eccetera che Dio dovesse avere un Tempio come l'avevano i Goim come l'avevano le Naziones Dio doveva avere un Tempio perché era vergognoso che ce l'avesse a Memphis ce l'avesse a Babilonia ce l'avesse a Susa a Persepoli a Il Batana e non l'avesse a Gerusalemme è così che era Gionassano Mone almeno stando al racconto biblico bisogna dare un Tempio a Dio finché Dio stava nelle sue reliquie che venivano portate come in battaglia nell'arca cioè in una cassa di legno di cedro che veniva portata a braccia era pur sempre un Deus Ambulance un Dio che si muove poi gli fanno il Tabernacolo e il Tabernacolo tendono il Tabernacolo è una grande tenda che si cerca di connettere alla terra attraverso paletti eccetera in alcuni posti in alcuni luoghi particolari e non in altri e questo è già un avvicinamento progressivo all'idea del Tempio e infatti i profeti di solito storcono la bocca davanti a una cosa del genere poi arriva Salomone e Salomone vuole assolutamente il Tempio nel senso assilo babilonese più forse assilo babilonese non egizio ormai e lì lì si crea un luogo dove Dio risiede risiede Dio naturalmente è dappertutto Dio è in tutto il Tempio però c'è un luogo dove risiede con particolare intensità è una piccola stanza quindi è un luogo fisico più fisico di così non si può è un dado di pietra cava con una piccola porta bisogna inchinarsi per entrare in questa stanza che è strettissima che è completamente al buio non ha finestre ha solo questa porta che è molto bassa ed è totalmente coperta di lamine di lastre d'oro quindi è una è un'oscurità che risplende c'è un bellissimo inorfico che è la che racconta le riflessioni che la madre di Perseo fa quando viene cacciata perché Perseo o Perseo alla alla greca è il frutto del rapporto d'amore fra Zeus e questa donna e lei si rivolge al bambino sono in una sorta di di recipiente non è proprio una barca è piuttosto qualche cosa che ricorda una cesta che naviga nella notte perché sono sono finiti in mare e la donna si rivolge al bambino e dice in questa oscurità tu solo risplendi c'è questa idea dello splendore all'interno dell'oscurità Pompeo nel 64 avanti Cristo penetra nel Kadosh nel Santo sepol no scusate Lapsus Lapsus molto cristiano nel Santa Santorum di questo si tratta in questa piccola stanza buia dove per tradizione solo il gran sacerdote c'entra una volta all'anno e ci resta pochissimo tempo che fra l'altro l'esposizione alla potenza di Dio che in quel luogo è particolarmente densa è un'esposizione fisicamente pericolosa se si legge la letteratura talmudica su queste cose si ricava un'impressione che sembra che l'autore stia parlando dell'energia atomica l'energia nucleare non ci si espone davanti a questa a questa forza se non in un giorno preciso per pochi istanti i gran sacerdote nemmeno il re può entrare in una cosa nel Santa Santorum e nel Santa Santorum abita questa cosa che è una parola misteriosissima la Shekinah la potenza divina la potenza divina che è l'essenza divina non è una forza attribuzionale diciamo così no è la sostanza della divinità che è una sostanza di energia questa Shekinah Pompeo forse se l'è fatta spiegare più o meno al tempo di Pompeo ormai l'aristocrazia ebraica parla correntemente il greco e Pompeo il greco lo sapeva benissimo eccetera quindi in termini di filosofia greca si è fatto spiegare a che cosa sta andando incontro poi è entrato in questa stanza ne è uscito probabilmente deluso nemmeno qualche autore dice sprezzante non c'è nemmeno il disprezzo piuttosto la delusione io sono entrato lì ma non ho sentito nulla e gli dispiace da buon romano non avrebbe avuto nulla in contrario ad accettare nel suo panteon anche dei lo facevano continuamente i romani della fine della repubblica e poi dell'impero nuovi dei però questo Dio non si vuole misurare con gli dei pagani non so se vi ricordate quel bellissimo passo della memoria di Adriano di Margarete e Orsenal in cui Adriano parla degli ebrei e ne parla con molto disprezzo ne parla con disprezzo e anche quasi con astio e sapete che l'Adriano di Margarete e Orsenal non è mai sprezzante perché dice ma chi ma chi credono di essere ma com'è che tutti i popoli della terra si riconoscono negli altri dei Mitra non si offende quando lo definiamo una sorta di bacco Osiride non si offende quando lo definiamo una specie di Hades il Dio degli ebrei disprezza ogni sorta di rapporto con gli dei delle altre delle altre religioni e è un passo che Margarete e Orsenal ha scritto all'inizio degli anni 30 e molto probabilmente poi non l'ha più rivisto e non l'ha più tolto molto probabilmente se avesse dovuto scrivere quel passo relativo agli ebrei e alla fede degli ebrei e alla sostanza della cultura ebraica 4 o 5 anni dopo non l'avrebbe più scritto perché 4 o 5 anni dopo ormai la violenza nei confronti degli ebrei in tutta Europa aveva assunto tutto un altro valore politico culturale eccetera e probabilmente lei si sarebbe ben guardata però una volta che il libro era uscito poi quella parte lì non è stata più espunta anche se lei è tornata su altre parti bene quando lei parla di questo Dio che è irriducibile a tutti gli altri anche lì c'è questa idea di una forza che è inespressa inesprimibile in termini che non le siano interni e allora qui si cade alla fine termino anche su questo qui si si cade o se preferite si arriva può essere un punto d'arrivo più che un punto di caduta si arriva a un altro problema fondamentale la inesprimibilità di Dio che viene fraintesa e viene intesa come fallimento della ricerca il quesiviet non inveni io l'ho cercato ma non l'ho trovato non so se vi ricordate quella bella scena del settimo sigillo di Ingmar Bergman della confessione del cavaliere di Antonio Sbloch che si confessa davanti a un monaco che trova in una chiesa quel monaco in realtà è la morte e loro hanno una partita a scacchi in corso e allora il cavaliere dice sto giocando a scacchi con la morte e il monaco risponde il monaco che è da morte risponde bene vai avanti cioè gioca molto bene però io forse ho scoperto un suo punto debole la prossima volta l'attaccherò sul lato sinistro e a questo punto il monaco si palesa e dice bene lo serrò presente questo è il punto finale della sequenza che è una sequenza molto bella molto intensa il punto iniziale è il fatto che quest'uomo che è tornato dalla crociata ci è tornato avendo perso il Dio è andato incrociata cercandolo e non l'ha trovato ha trovato ogni sorta di infamia ma Dio non l'ha incontrato e allora dice ripete il solito problema e poi torna di continuo il discorso dell'innominato del Manzoni se volete Dio ah se lo vedessi se lo conoscessi Dio non riesco a incontrarlo Dio non mi parla io lo prego di parlarmi e lui non mi parla e sottintende il Cavaliere probabilmente non mi parla perché non c'è e allora la risposta del monaco che è la morte è il suo silenzio non ti parla tu non riesci a decifrare il linguaggio di Dio il linguaggio di Dio può presentarsi come silenzio e il silenzio può essere anche quello della di un suono talmente alto un ultrasuono che è non percepibile per l'orecchio umano quindi Dio non ti parla non perché stia in silenzio ma perché ti sta parlando in un modo talmente forte talmente intenso talmente acuto che tu non lo che tu non lo cogli e tutto questo riporta sempre al solito punto ma insomma c'è un dove e un quando nel quale l'uomo nel quale l'uomo si deve misurare se vuol trovare Dio o perlomeno se lo vuol cercare e questa ricerca per forza di cose diventa una localizzazione nel tempo e nello spazio ed è questo in fondo il punto fondamentale della ineffabilità della ricerca ma nello stesso tempo è quello che noi affrontiamo di continuo noi ci ci obblighiamo a fare delle dimore delle dimore a Dio delle dimore per Dio perché noi vogliamo che Dio in qualche modo entri in queste dimore la dimora lo dice molto bene Claudel nell'annonce fette a Marie che è la storia della costruzione e la cattedrale di Chartres la cattedrale è una trappola bisogna non a caso al centro della cattedrale di Chartres c'è un labirinto bisogna trattare Dio come se fosse una divina selvaggina bisogna immetterlo in questo labirinto perché questo labirinto è una rete bisogna fare in modo che non esca più da questa rete il nostro amore per Dio si deve trasformare in una sorta di possesso di Dio la cattedrale è una trappola da cui Dio non può uscire o meglio il maestro costruttore di cattedrali costruisce la cattedrale come una trappola trappola divina trappola trappola mirabile trappola ineffabile dal quale Dio non esce e non esce non uscendo questo lo rende più attingibile rispetto all'uomo in un certo senso la cattedrale è una tentativa è un tentativo di perfezionare il principio dell'incarnazione di fare in modo che Dio sia obbligato a diventare qualcosa a misura d'uomo a diventare un fratello il che per un altro è divertentissimo perché fra tutti i santi cristiani quello che secondo la visione almeno cattolica è più vicino al Cristo tanto è vero che lo si chiama ordinariamente l'alter Christus è uno che di cattedrale e di chiese non ne voleva sentire parlare non che ce l'avesse le cattedrale le chiese solo che per quanto riguardava lui e i suoi frati chiese belle alte grandi eccetera non ne voleva appena morto lo hanno fatto santo immediatamente santo subito due anni dopo e gli hanno fatto una chiesa immensa che è una chiesa fra l'altro che rompe i canoni dell'architettura sacra nelle chiese del tempo nelle grandi cattedrale o nelle grandi abbaziali del tempo ed è una realtà che fino al cinquecento è stata seguita fino alla controriforma ma anche dentro alla controriforma le chiese sono orientate hanno l'abside rivolto verso l'est rivolto verso il luogo dove sorge il sole e quindi l'ingresso è a occidente ed è importante che l'ingresso sia a occidente perché il peccatore che va in chiesa per espiare deve percorrere tutto il suo cammino fisicamente un pellegrinaggio dall'occidente del peccato dove il sole muore fino all'altare che sta a oriente dove invece il sole sorge e c'è solo una chiesa nell'architettura paleocristiana costruita nel quarto secolo che viene meno a questa regola e stabilisce il portale davanti alla luce del sole che sorge quindi l'abside a occidente ed è il santo sepolcro di Gerusalemme poi ce n'è un'altra che è il sacro convento di Assisi e non è casuale non è un errore non è una svista in un certo senso è un rovesciamento dell'architettura sacra che indica un mutamento di strategia per imprigionare Dio ecco questo questo tipo di osservazioni che poi corrisponde anche a una parte del libro che io ho dovuto togliere perché stava diventando troppo lungo e l'editore mi ha fatto notare bisogna anche avere pietà per il lettore e quindi queste cose sì d'accordo per forza di cose bisognava è un discorso che bisognava svolgere in termini filosofici un pochino complessi e per un libro come questo non sarebbe stato adatto forse poi lo riprenderò in un'altra sede ecco però la centralità è questa la sede di Dio è è il trono che noi erigiamo a Dio ma nello stesso tempo è anche l'oggetto che ce lo che ce lo rende più umano che ce lo rende più vicino che ci permette di andare da lui in qualche modo e che quindi lo lo tratta a misura d'uomo il problema è che Dio non è a misura d'uomo Dio è a misura di Dio e questo noi non riusciamo non solo a concepirlo ma tantomeno riusciamo a tradurlo in termini razionali e tantomeno poi in termini architettonici ecco il professore ha accennato al suo libro e volevo dire che effettivamente il suo libro è una sarebbe anche potuto essere ancora più grande perché è assai piacevole nelle mie intenzioni sì capisco che le faranno fare un volume 2 però è una bellissima poi in questo caso c'è la cosa che taglia la testa al toro cioè ti dicono no ma poi viene a costare troppo e quindi non funziona perché il lettore non però devo dire che è sufficientemente grande perché Dio non resti fuori nel senso che è una bellissima fenomenologia dei luoghi luoghi tra l'altro adesso il professore ha parlato delle cattedrali le basiliche il tempio di Gerusalemme ma non solo luoghi fisici perché poi il libro tratta anche di luoghi naturali montagne il professore ha citato ha citato San Francesco insomma la verna le montagne le rocce della verna insomma si transita dal naturale al culturale all'artificiale al costruito dall'uomo cercando di però mantenere sempre una barra molto forte tra l'altro anche un po' autobiografica perché ci sono poi delle parti interessanti in cui il professore racconta anche le sue teofanie cioè i suoi luoghi noi in realtà il tempo è quasi finito ma visto che parlavamo delle sue teofanie ce ne racconta una cioè un luogo in cui lei facciamo un po' di autobiografismo ha sentito più densa più condensata più perentoria lei diceva prima ecco dov'è che ha sentito Dio in maniera perentoria oimè ma beh io sono sono fiorentino sono toscano e sono uno che per forza di cose facendo il medievista e occupandosi di crociate di pellegrinaggi di questa roba qua i pellegrinaggi li deve anche fare insomma è un po' mi sono anche trovato a partecipare perlomeno a spedizioni archeologiche soprattutto in Terra Santa eccetera e fa parte un po' del mio mestiere però nello stesso tempo siccome io non scavo ma semmai leggo libri o leggo documenti e poi le trago delle conseguenze sotto forma di libro o di saggio il mio il mio scavare è un leggere e uno scrivere per cui evidentemente certe cose tendo a cercarle piuttosto nei testi però quando si vive chiunque di noi ha delle esperienze che sono esperienze che possono essere anche sublimi non è stato mai il mio caso mi ricordo aver fatto esperienze sublimi ma alcuni riescono a farle però nello stesso tempo sono sempre in qualche modo un po' familiari ecco sono nell'ambito dell'esperienza biografica di tutti i giorni che a un certo punto si innesca qualcosa di straordinario per me che sono nato a Firenze e che aveva avevo questi interessi fino dal ragazzo questi interessi si materializzava sotto forma di camminare e quindi ho sperimentato il pellegrinaggio quasi istintivamente facendo delle lunghe passeggiate allora i ragazzi potevano avere le cosiddette tende canadesi oggi hanno delle cose bellissime la tenda canadese è una cosa infame perché praticamente è una coperta più o meno impermeabilizzata la reggi con un perno centrale più o meno ci dormi dentro non c'è nemmeno un pavimento o roba di questo genere però questo si introduceva il pellegrinaggio e i miei pellegrinaggi prima di arrivare a Gerusalemme a Santiago eccetera sono stati fondamentalmente pellegrinaggi francescani pellegrinaggio a Laverna per esempio e Laverna è un luogo veramente di grandissima intensità perché c'è un po' tutto c'è l'altezza non è una montagna altissima in fondo siamo nell'anti appennino ma è abbastanza alta da avere un mantello di foresta fitta da avere una vertice che è o era fino a pochi anni fa innevato per buona parte dell'anno adesso io in cima a Laverna nel punto che si chiama La Penna è il punto più alto la neve non ce la trovo più da un sette otto anni però mi ricordo che nei sette decenni precedenti della mia vita da quando ho cominciato a visitare il monte e a scavarlo e con dei punti che sono anche un po' difficili ecco adesso ho qualche dubbio fino a ora ce l'ho sempre fatta un po' più piano un po' più lentamente beh io mi ricordo che a un certo punto si trovava la neve anche d'estate ora non si trova ora non si trova più perché evidentemente siamo in una fase la sinusoide climatica ci ha riportato al decimo undicesimo secolo dopo Cristo è una sinusoide che ha una luce di mille anni praticamente durante la quale passa dall'optimum al pessimum a un altro optimum e lì tu fai un'esperienza che per forza di cose diventa un'esperienza religiosa anche perché il camminare induce al silenzio è vero che durante quando si cammina si fanno anche delle bellissime conversazioni però c'è un camminare che per sua natura è faticoso il cammino al pellegrino è per sua natura faticoso se non altro perché in generale è su dei saliscendi e quando si cammina in questo modo non si riesce a parlare è proprio un problema un problema strutturale insomma manca il fiato però il colloquio si interiorizza è una preghiera forse sì qualche volta lo è esplicitamente qualche altra cosa una volta è una preghiera in forma di soliloquio o di racconto a se stesso questo è il lato propriamente più autobiografico di un'esperienza di un'esperienza di questo genere ed è un ed è un'attività che ti aiuta a passare momenti in cui molto raramente ti capita però di sentirti più vicino può essere un'illusione evidentemente può essere uno stato di coscienza alterato la salita l'ascesa il sudare l'ansimare beh è un pochino per certi versi come assumere una droga o come bere un liquore o cose di questo genere e ti crea uno stato di coscienza alterato all'interno di questo stato di coscienza alterato penetrano quelle cose che Carl Gustav Jung ha chiamato archetipi e quindi evidentemente a volte si ha la sensazione di essere sul punto di cogliere qualche cosa e qualche cosa poi ti scappa sempre d'altra parte questo è il nucleo dell'esperienza anche filosofica è una bellissima pagina di di Lessing in cui lui si immagina appunto il colloquio un colloquio con Dio Dio lo invita ad un colloquio o gli compare non si capisce comunque si stabilisce un dialogo e non è il dialogo che l'essere umano credente può pensare di avere con Dio dopo la morte muore e poi in qualche modo viene ammesso alla presenza di Dio anche sul piano particolare non quindi il giudizio universale e Dio gli chiede certe cose e a Lessing Dio gli fa il giochino che si fa ai bambini gli si presentano tutti e due i pugni chiusi in una mano c'è una cosa e nell'altra ce n'è un'altra oppure come si fa spesso ai bambini in una mano c'è una cosa nell'altra non c'è nulla se il bambino individua la mano piena ha il regalo il cioccolatino o quello che è se il bambino individua la mano vuota il regalo non ce l'ha almeno sul momento poi glielo dai lo stesso per non farlo piangere perché un bambino che piange io ne so qualcosa sono turbe di nipoti e bisnipoti addirittura sono bisnonno e quindi preferisco non farli piangere perché è un'esperienza disperante o su un certo segno bene Lessing dice Dio dice a Lessing cosa vuoi io nelle mie mani ho due cose che tu devi scegliere la verità e la ricerca scegli ma insomma la maggior parte di noi istintivamente troverebbe la cosa è squilibrata ed è quasi un'offerta un po' indegna della più grande delle intelligenze universali perché è chiaro che uno sceglie la cosa più bella più forte più alta che è la verità la ricerca è fatica è ansia è frustrazione e chi ce lo fa fare Lessing invece da un punto da buon filosofo dice guarda la verità è roba tua noi non abbiamo mai capito che cosa sia la verità sottintendendo un rimprovero anche a una parte a una nota pagina evangelica no? quando Gesù si trova davanti a un funzionario romano che era un personaggio anche poco raccomandabile però aveva fatto i suoi studi ovviamente ed era un filosofo platonico della seconda stoa quindi era appunto uno stoico e quindi era molto attento al problema della verità del significato della verità è uno dei grandi problemi di Marco Aurelio anche di Adriano perché l'Adriano della Yorsenar somiglia più dannatamente a Marco Aurelio che non ha Adriano per quanto ne sappiamo storicamente quindi c'è il problema della verità si trova davanti questo agitatore ebreo che gli parla della verità io sono la via la verità ora che lui sia la via e la vita appilato gli interessa meno sono vaneggiamenti da vaneggiamenti da fanatico ebreo ma la verità invece gli interessa e allora gli chiede qui deste veritas cos'è la verità Gesù non gli risponde e questo ci lascia maledettamente a bocca asciutta qualcosa ci doveva pur dire certo se ce l'avesse detto la pagina evangelica sarebbe dovuta andare avere una una svolta verso altri lidi che sono un po' impensabili però quest'idea della ricerca a quel punto diventa veramente essenziale la verità è roba tua io non la voglio nemmeno sapere perché tanto se tu me lo spieghi io so bene che non lo capisco perché non è a misura d'uomo il capire la verità e allora facciamo che tu non me la dare la verità dammi la ricerca dammi la forza il coraggio la costanza necessarie per tendere sempre alla verità con la consapevolezza di non arrivarci mai perché questo è il nostro cammino umano bisogna arrivare imperfetti alla meta altrimenti si tradisce la nostra natura e tutto sommato alla fine la pienezza delle conoscenze ci lascia ci lascia vuoti perché noi non siamo non siamo nati per questo noi siamo nati piuttosto per tentativo continuo di arrivare alla di raggiungere l'irraggiungibile ecco la l'ineffabile che è sempre è sempre lì e se non lo si trova mai insomma grazie professore anche perché ci lancia nei prossimi appuntamenti perché se vogliamo proseguire con la nostra ricerca tocca essere di nuovo tutti qui il 19 martedì 19 con Maurizio Ferraris tra l'altro parleremo proprio di verità e di bellezza anche a partire da Agostino io la ringrazio molto professor Cardini per essere stato nostro ospite per aver inaugurato il ciclo grazie a voi per la pazienza che io non avrei avuto oggi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi